Ed eccoci a un nuovo capitolo delle videoconsulenze. Come di consueto, per ricevere risposte ai vostri problemi legali, vi invito a descrivermi il vostro problema in una videodomanda da inviarmi al numero che vedete in sovraimpressione e io proverò a rispondere a tutti con la mia videorisposta che pubblicherò su questo stesso canale. E non dimenticate la parola magica. Questa è la legge! Piccolo spazio autopromozionale, prendete nota di questa data. 1 aprile 2021. 1 aprile 2021, ore 18 e 30. Ma cosa che succede? È la prima puntata della nuova trasmissione in live streaming su Twitch di Questa è la legge! E non potete mancare proprio voi che siete iscritti al mio canale di YouTube, non potete mancare proprio voi che amate la legge, non potete mancare proprio voi che tutti i giorni dite insieme a me Questa è la legge! Quindi mi raccomando, 1 aprile 2021, ore 18 e 30, live streaming on Twitch! Buongiorno avvocato, vorrei sapere se è permesso dalla legge effettuare un bonifico a favore di una persona senza che sussista una particolare motivazione. Questa? È la legge! Allora il nostro amico ci chiede se è permesso fare un bonifico a favore di una persona senza una motivazione. È necessario fornire una causale nel momento in cui si trasferisce del denaro da un conto a un altro e che succede invece se questa causale non viene indicata? Potrebbero le autorità in un momento successivo fare un controllo e sollevare contestazioni? La questione coinvolge norme di diritto civile e fiscale, cerchiamo allora di fare il punto della situazione. Ogni spostamento di denaro da una persona a un'altra ha sempre una causa, anche se tacita e non manifestata all'esterno. La causa può essere ad esempio la vendita di un oggetto o di un servizio, un prestito o un regalo. Il semplice fatto di versare del denaro dal conto di una persona a quella di un'altra, senza uno scopo preciso, configura una donazione. Si tratta cioè di un regalo che viene fatto senza nulla volere in cambio, ossia, come tecnicamente si dice, a titolo gratuito. Come ha più volte chiarito la Cassazione, in assenza di una specifica prova circa la motivazione dello spostamento del denaro, si presume che questa operazione integri una donazione. Pertanto, qualora colui che ha eseguito il bonifico volesse pretendere la restituzione dell'importo, dovrebbe dimostrare che lo stesso è stato fatto per errore o in forza di un prestito. Quanto al prestito, ad esempio, chiarisce sempre la Cassazione, sarebbe fondamentale, anche se non indispensabile, una prova scritta che possa appunto escludere l'intento rivolto alla donazione. Detto ciò, dunque, permesso fare un bonifico a favore di una persona, ma la motivazione in questi casi, se non è esplicitata dalle parti, si riterrà essere un atto a titolo gratuito, cioè un regalo, con la conseguenza che non è più possibile ottenerne la restituzione. La donazione, infatti, è un atto irrevocabile. Alla luce di ciò, non è necessario neanche indicare una causale nel bonifico. Risolta la questione di diritto civile, ossia quella dei rapporti tra le parti, vediamo invece come si inquadra l'operazione da un punto di vista fiscale non meno importante. Il beneficiario dell'importo dovrebbe dichiarare la somma ricevuta al fisco? Dovrebbe, cioè, pagare le tasse su di essa, riportandola nella propria dichiarazione dei redditi? Il principio di fondo stabilito dal testo unico delle imposte sui redditi è che ogni bonifico sul conto corrente si presume essere un reddito imponibile soggetto pertanto a tassazione, salvo prova scritta contraria. Quindi, se una persona riceve dei soldi sul proprio conto corrente, deve indicare il relativo importo nella propria dichiarazione dei redditi. Esso andrà a sommarsi agli altri redditi imponibili percepiti dal contribuente nel medesimo anno d'imposta e come tale verrà tassato. Se il contribuente non si comporterà in questo modo, l'Agenzia delle Entrate, che può accorgersi del bonifico tramite un archivio telematico detto Anagrafe dei Conti Correnti, gli invierà un avviso di accertamento per costringerlo a pagare le imposte evase e le relative sanzioni. I rischi, dunque, sono solo per chi riceve il denaro e non per chi lo versa. Dicevamo, però, che il beneficiario del bonifico può anche fornire all'ufficio delle imposte la prova contraria. Può cioè dimostrare che l'importo ricevuto non costituisce un reddito imponibile. In cosa consiste questa prova? Ad esempio che si è trattato di una donazione. Le donazioni, infatti, se sono di modesto importo, non sono soggette a tassazione. Quelle, invece, più consistenti sono imponibili e, se provenienti dai strani, ossia da soggetti non legati a rapporti di familiarità o parentela, scontano un'imposta dell'8%. L'Agenzia delle Entrate ha detto che le donazioni di modico valore non fanno reddito, non devono quindi essere dichiarate. Si tratta però di un concetto molto generico e vago. Il modico valore va sicuramente rapportato alle condizioni economiche del donante. È tale, quindi, la donazione che non ne comporta un sostanziale impoverimento. Pensa, ad esempio, a una donazione che non supera poche centinaia di euro. Se la donazione è di modico valore, non c'è neanche bisogno del notaio, né di dichiarare l'importo al fisco, trattandosi, appunto, di somme esenti. Un altro esempio di prova contraria che il beneficiario del bonifico potrebbe fornire all'Agenzia delle Entrate, in caso di controllo, sempre per evitare un accertamento, è che la somma costituisca il corrispettivo per la vendita di un oggetto usato, anch'essa non tassabile. Infine, potrebbe anche dire che si tratta di un rimborso spese o della restituzione di un prestito, ma anche in questo caso sarà sempre necessario procurarsi una prova scritta, ossia un documento che attesti quanto sopra. Documento che deve avere una data certa, ossia certificata da un pubblico ufficiale o un descrudere che lo stesso sia realizzato a posteriori dalle parti con un intento fraudolento e poi retrodadato. Tale sarebbe, ad esempio, un atto registrato all'Agenzia delle Entrate, o magari un foglio spedito con raccomandata R dove c'è il timbro del postino che fa fede o uno scambio di email fatto tramite posta elettronica certificata. Bene amici, anche per oggi abbiamo finito. Vi ricordo il numero a cui mandare le vostre video domande e ricordate, questa è la legge.